Musica 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 Guardiamo a replay di cosa ha fatto Videomaker Guardiamo un po' Ahah, stava parando Adesso per penitenza dovrà fare canestro Ma all'indietto Musica 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 Ma cosa fai? Devo fare le sfide! Musica 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 Come seconda sfida Videomaker si deve nascondere Infatti già è nascosto Vado a cercarlo Andiamo! Musica Musica Yeah è andato via! Posso andare a fare Tana! Musica Ho sentito qualcuno di là! Ma andiamo subito alla Tana, se no fa Tana! Musica Devo fare una trappola per Mr Beast Quindi ho messo subito una trappola Musica Bah, di nuovo ho vinto questa challenge Adesso basta Se volete vedere un altro episodio Per vedere se finalmente Videomaker riuscirà a vincere questi 100 milioni di euro Mettete almeno 100 like Ciao